Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi finalmente facciamo insieme la meditazione del riposino che è una pratica molto rilassante che potete fare in ogni momento della giornata. Come vedrete non dura molto, però vi farà stare meglio come se aveste fatto una bella dormita. La potete fare sempre, anche la sera, quando siete stanchi, magari prima di andare a dormire. L'unica cosa di cui dovete preoccuparvi è di non avere distrazioni intorno a voi e di avere un posto dove potete sdraiarvi, quindi sul letto, sul divano, oppure a terra come vi farò vedere io. Magari posizionando correttamente la testa su un cuscino e forse sotto le ginocchia così da avere il corpo più rilassato. Quindi adesso cominciamo. Ecco, vi posizionate sdragati a terra e rilassate le braccia lungo il corpo, posizionate la testa correttamente sul cuscino e quindi poi vi lasciate guidare dalla mia voce. Rilassati, chiudi gli occhi, abbandona le braccia con delicatezza lungo il corpo e lascia che gambe e piedi si rilassino. Se il tuo corpo non è in grado di farlo, trova la posizione per te più comoda e rilassati in quella posizione, qualunque essa sia. Sai che sei un miracolo? Tutto il tuo corpo è un miracolo, dalla testa ai piedi. Cominciamo ispirando ed espirando in consapevolezza. Quando ispiriamo, sentiamo che la pancia si solleva un poco. Quando espiriamo, sentiamo che la pancia si riabbassa. Il respiro entra ed esce come onde del mare, molto rilassato, molto tranquillo. Per alcuni respiri, limitiamoci a notare il movimento in su e giù della pancia. Mentre ispiro ed espiro, sono consapevole dell'intero corpo sdraiato. Sento tutte le zone del corpo che toccano il pavimento, i talloni, la parte posteriore delle gambe, il sedere, la schiena, il dorso delle mani, le braccia, la nuca. A ogni respiro, mi sento rilassare e affondare sempre più, lasciando andare ogni cosa, lasciando andare preoccupazioni, paure, pensieri, programmi per il futuro. Ispirando, sono consapevole delle mie mani. Espirando, rilasso completamente tutti i muscoli delle mani. Ispirando, mi sento fortunato di avere queste due mani. Espirando, sorrido alle mie mani. Le mie mani sono così preziose. Grazie a loro posso giocare. Con queste mani posso dipingere, posso disegnare, posso scrivere, posso costruire e aggiustare le cose. Posso coccolare un animale, allacciarmi le scarpe, posso aiutare a fare i biscotti o la torta, posso pettinarmi e fare tantissime altre cose con le mie mani. Ispirando, spalanco bene le mani. Espirando, le rilasso. Le mie mani sono due ottime amiche, sempre pronte ad aiutarmi. Ispirando, sono consapevole delle mie braccia. Espirando, permetto alle braccia di rilassarsi completamente. Ispirando, sono felice di avere due braccia forti. Ispirando, rilascio tutti i muscoli contratti e provo gioia e agio in ogni cellula delle mie braccia. Con queste braccia posso abbracciare i genitori. Le braccia mi permettono di dondolarmi sull'altalena, di nuotare, di lanciare una palla. Ora ho l'opportunità di dire grazie alle mie braccia. Fanno così tanto per me. Ispirando, allungo le braccia. Espirando, le faccio riposare, completamente rilassate. Sorrido alle mie due buone amiche. Ispirando, sono consapevole delle mie spalle. Ispirando, faccio riposare le spalle e ne rilascio tutto il peso sul pavimento. Ispirando, mando il mio amore alle spalle. Ispirando, sorrido. Sono grato per la loro forza. Ogni volta che ispiro, sento che si rilassano sempre di più. E ora passiamo ai piedi. Ispirando, sono consapevole dei miei piedi. Ispirando, sorrido ai miei piedi. Muovo le dita dei piedi, tutte e dieci. Che bello avere due piedi. Con i piedi posso camminare e correre. Fare sport. Ballare. Andare in bicicletta. Ai miei piedi piace tanto sentire il calore della sabbia quando cammino sulla spiaggia. Quando piove, i miei piedi si divertono a sguazzare nelle pozzanghere. Ai giardini o al parco giochi, i miei piedi amano correre, fare salti. E quando sono stanco, ai miei piedi piace riposare. Grazie, piedi. Ispirando, allungo i piedi e le loro dita. Ispirando, rilasso i piedi. Mi sento fortunato ad avere i miei due piedi. Ispirando, sono consapevole della mia gamba destra e della mia gamba sinistra. Ispirando, sono contento delle mie gambe. Le mie gambe mi aiutano a stare in piedi e con queste gambe posso sedere a gambe incrociate o fare la spaccata. Posso giocare e camminare sui trampoli, su e giù dalle scale, avanti e indietro, da casa a scuola. Ho già percorso molti chilometri con queste gambe. È così bello avere queste gambe. Ispirando, stendo bene le gambe. Ispirando, rilasso le gambe. Le mie gambe sono un miracolo e sono sempre a mia disposizione. Ispirando, sento i miei occhi. Ispirando, sorrido ai miei occhi. Ispirando, rilasso i tanti muscoli che ci circondano. Ispirando, mando ai miei occhi il mio affetto e la mia cura. Questi occhi sono un dono. Coi miei occhi posso vedere. Posso vedere te e posso vedere me stesso. Posso vedere gli uccelli che volano. Posso vedere la luna. Posso leggere, scrivere e guardare la televisione. Posso vedere le formiche al lavoro. Posso fare lunghe divisioni. E quando sono triste, posso piangere e lasciar scorrere le lacrime. Nei miei occhi si vede tutto quello che ho dentro. Ispirando, chiudo gli occhi stringendoli forte. Ispirando, li rilasso e lascio che si distendano. Grazie, occhi, che mi permettete di vedere. Ci sono così tante belle cose da vedere intorno a me. Ispirando, sento i miei polmoni diventare più grandi. Quando espiro, sento che si riducono. Ispirando, mi sento molto felice di avere due buoni polmoni. Ispirando, sorrido con gentilezza. I miei polmoni sono davvero incredibili. Mi fanno respirare tutto il giorno e tutta la notte. Anche mentre dormo. Portano ossigeno al mio corpo e mi mettono in grado di parlare, cantare, gridare, sussurrare, ridacchiare, brontolare. Appena nato, la prima cosa che ho fatto è stata di ispirare a fondo. E da quel momento ho sempre potuto contare sui miei polmoni, ogni minuto, ogni giorno. Ispiro aria fresca nei polmoni e quando espiro li lascio riposare e rilassare. Grazie, polmoni, di farmi respirare. Ispirando, so che il cuore mi batte nel petto. Ispirando, sono contento del mio cuore e lo lascio riposare. Con l'ispirazione mando affetto al mio cuore. Con l'ispirazione gli sorrido. Il mio cuore mi permette di vivere ed è sempre a mia disposizione, ogni minuto, ogni giorno. Non si prende mai una pausa. È un organo meraviglioso che mi permette di fare tutto ciò che faccio nel corso della giornata. Ispirando, so che anche il cuore mi vuole bene. Ispirando, prometto di vivere in un modo che lo aiuti a mantenersi sano e forte. Ad ogni espirazione sento il cuore rilassarsi sempre più e ogni sua cellula sorridere, con benessere e gioia. Ispirando, respiro, calma, io sorrido, lascio andare. Ispirando, sono consapevole del mio stomaco. Ispirando, lo rilasso. Ispirando, sono contento di avere uno stomaco. Ispirando, gli sorrido. So che il mio stomaco lavora moltissimo per me. Ogni giorno digerisce il cibo che mangio e mi dà forza ed energia. Ora, gli permetto di riposare completamente. Mentre ispiro, sento lo stomaco sereno e leggero. Mentre ispiro, provo gratitudine per lui, che è sempre a mia disposizione. Ora, porto l'attenzione su una parte del mio corpo che può essere malata o che prova dolore. Questo è il momento giusto per prenderne coscienza e per mandarle il mio amore. Ispirando, faccio riposare questa parte del corpo. Ispirando, le sorrido con gentilezza. So che altre parti del mio corpo sono ancora forti e piene di salute. Faccio in modo che mandino la loro forza ed energia alla zona debole o malata. Sento il sostegno, l'energia e l'affetto delle parti sane del mio corpo per vadere la parte più debole, dandole sollievo e facendola guarire. Mentre ispiro, so che il mio corpo è un miracolo perché sa guarire quando si ammala. Mentre ispiro, lascio andare ogni preoccupazione e paura. Ispirando ed espirando, sorrido con affetto e fiducia alla parte del corpo che non sta bene. Ispirando, sento l'intero mio corpo sdraiato. Ispirando, mi godo la sensazione del mio corpo sdraiato a terra, molto rilassato e tranquillo. Sorrido al corpo intero mentre ispiro. Gli mando affetto e compassione mentre ispiro. Sento tutte le cellule del corpo sorridere con gioia insieme a me. Provo gratitudine per tutte le cellule del mio corpo e percepisco il gentile movimento su e giù della pancia. Ora la pratica del rilassamento profondo è terminata. Possiamo muovere con dolcezza le mani e i piedi e possiamo stirarci lentamente. Poi rotoliamo su un fianco e ci mettiamo seduti. Quando siamo pronti possiamo aprire gli occhi. E ci diamo tutto il tempo che ci serve per alzarci lentamente con calma. Ciao a tutti!